Signori, complimenti. Parto da questo, dai complimenti a prescindere da come finirà la partita. Mancano gli ultimi tre minuti di recupero e proprio come fatto per la partita da Atalanta e Bologna dico complimenti, sinceri e sentiti complimenti. Perché queste due squadre oggi hanno dato vita ad una partita di un'intensità, di un equilibrio, di un'intelligenza tattica, di anche grande qualità tecnica sporcata dall'intensità e credo che sia i tifosi dell'Inter che oggi vincono la decima partita consecutiva con questo risultato e si portano a più 18 dalla Juventus di Massimiliano Allegri impegnata in uno scontro importante domani contro l'Atalanta e che quindi sarà un po' quello che è l'ago della bilancia anche della zona Champions League e complimenti anche al Bologna che si ferma a sei vittorie di fila ma ha fatto un secondo tempo veramente tanto importante e forse il pareggio lo avrebbe anche meritato. Però questa Inter, ragazzi, ha una capacità di essere grande e una capacità di giocare determinate partite anche, no, riuscendo a gestire le forze in vista dell'impegno contro l'Atalanta di Comadrid e la forza ovviamente di quest'Inter è anche il fatto di un grandissimo divario di punti da quelle che cercano di inseguirla perché poi in realtà forse non c'è mai stata una vera inseguitrice di quest'Inter e stasera ha dimostrato il perché. Ha fatto un primo tempo in cui abbiamo visto un'altra sfaccettatura diversa dell'Inter di Simone Inzaghi quella della pressione in avanti, un po' sulla falsariga di quello che abbiamo visto ovviamente mettendo, no, il giusto equilibrio nell'esempio che sto facendo. L'altra sera ho visto Roma-Brighton e la Roma con il pressing alto ha messo in difficoltà il palleggio del Brighton. Questa sera l'Inter, che non è una squadra, ragazzi, non vi fate sorprendere tanto dai grandi risultati però non è una squadra che spesso va a prendere così alto gli avversari e oggi ha messo in difficoltà il Bologna nel primo tempo proprio con questa pressione alta, no? Ha sporcato il palleggio del Bologna che ha avuto grande difficoltà a costruire e nel primo tempo l'Inter ha avuto anche su una trasmissione, su una transizione negativa, no? Quindi da non possesso a possesso molte occasioni nel primo tempo una neutralizzata benissimo da Skorupski, un'altra un po' di imprecisione, un'altra bella parola di Skorupski e poi infine il gol che è arrivato con la più classica delle azioni delle squadre moderne da terzo a terzo di difesa, no? Un po' da come quando si gioca da terzino a terzino lo abbiamo visto in tante video e questa sera abbiamo visto innanzitutto quanto è forte Bissek e continuo a ripeterlo non solo quando segna ma in generale questo giocatore è comunque un giocatore importante che è il capitano dell'Under 21 tedesca è un giocatore che ha molti giocatori forti davanti a sé ma questa sera ha dimostrato del motivo per il quale pur essendo magari il settimo difensore è così importante averlo a disposizione perché questa sera hai permesso alla tua squadra di fare una rotazione di uomini e hai permesso all'Inter di vincere comunque la partita una partita molto complicata, una partita difficile una partita che poteva essere sbloccata da un episodio e l'episodio ce l'ha avuto a favore la squadra che nel primo tempo ha giocato meglio cioè l'Inter che ha interpretato bene la partita e è riuscito a mettere in difficoltà questo Bologna a cui vanno fatti però i complimenti perché oggi se l'è giocata alla pari era la terza partita che questo Bologna giocava quest'anno contro l'Inter due pareggi a San Siro anzi un pareggio e una vittoria perché il pareggio dei 90 minuti ma ai supplementari della Coppa Italia aveva eliminato questa Inter qui dalla Coppa Italia e poi questa sera un 1-0 comunque che ha dato nel complesso di queste tre sfide un certo equilibrio e che ci ha detto il motivo per il quale il Bologna è realmente candidata all'Europa è pronta per l'Europa è pronta per giocarsi fino alla fine un posto in Champions ovviamente da tifoso romanista questo risultato è quello che preferivo perché comunque per quanto riguarda la Roma se dovesse vincere la sfida complicatissima di domani sera a Firenze il distacco si restringerebbe a meno uno e con il calendario che abbiamo e la Roma ha un calendario veramente difficile perché deve andare a Bergamo deve giocare contro la Juve deve giocare partite molto molto complesse deve giocare il derby di ritorno quindi diciamo una serie di partite che possono metterla in difficoltà dal punto di vista, calcolando che c'è anche l'Europa League di mezzo nel lungo confronto con il Bologna per il quarto posto però ovviamente questo per il quarto posto è un risultato importante perché permetterebbe ad Atalanta e a Roma vincendo le difficilissime rispettive partite di potersi avvicinare però ragazzi il Bologna che oggi probabilmente ha peccato un po' di inesperienza nel primo tempo e che non è stata molto lucida e troppo fredda nel secondo però poteva meritare un pareggio e poi purtroppo per il Bologna la smorfia di Zirzea all'uscita dal campo aveva avuto Zirzea la prima convocazione con la nazionale maggior olandese e si è fatto male, ha sentito un dolorino ed è dovuto uscire abbiamo visto Castro anche in questi minuti di partita insomma anche scelte importanti di Diago Motta ragazzi scelte importanti dal primo minuto ha tenuto fuori Orsolini, ha messo sale Makers si è tenuto delle frecce per il finale che però non gli hanno portato diciamo il pareggio o comunque qualcosa di più o almeno quanto si aspettava di più Diago Motta da questi ingressi però è una bellissima partita ragazzi è una bella partita che si è sbloccata ed è stata risolta da un grandissimo gol cioè l'Inter ragazzi è una squadra moderna è una squadra che attacca in massa è una squadra che a un certo punto ragazzi in un'azione aveva Bissec, Bastoni e Acerbi che erano praticamente i tre giocatori più avanzati e oggi nelle rotazioni anche difensivo ho visto delle cose interessanti perché quando si sganciava no? uno di questi si compone una linea 4 nell'Inter no? che scenda un po' il mediano che si avvicinano i tersini con l'esterno di competenza dall'altro lato c'è un sistema ben collaudato oggi Inzaghi ha vinto su Diago Motta e ha fatto 10 di fila per l'Inter che va più 18 dalla Juventus più 18 e siamo a inizio marzo questa Inter superato anche questo ostacolo adesso può puntare serenamente alla Champions ed è solo una questione di matematica come fu l'anno scorso per il Napoli ma questa Inter oggi voleva vincere la partita perché vuole fare anche il record di punti secondo me di questa competizione e lo può fare il Bologna deve stare tranquillo ha perso una partita contro una squadra che ha vinto 10 partite di fila è la migliore per vittorie e punti in trasferta è la migliore per vittorie in casa e comunque oggi ha fatto una vittoria importante tenendo anche in panchina giocatori importanti perché Pavard ha riposato perché Di Marco ha riposato perché Lautaro Martinez ha riposato e ha mostrato che anche un Alex in Sanchez in certe condizioni può fare la differenza e oggi si è visto il Bologna deve essere tranquillo perché il Bologna ha un obiettivo di lunga durata di lungo termine e secondo me può raggiungerlo può raggiungerlo e deve anche sperare nelle italiane nelle coppe che vadano avanti per poter sbloccare il quinto slot per la Champions perché è una squadra che dopo una stagione del genere per il calcio che propone per il coraggio dell'allenatore per le individualità forti e che comunque Tiago Motta ha reso eccellenti deve avere un obiettivo forte deve essere l'Europa e deve cercare di mantenere i giocatori più prestigiosi all'interno del suo gruppo un Inter dominante e a tratti imbattibile perché se vince anche queste partite come ha vinto la settimana scorsa contro il Genoa le partite più complesse le partite più sporche le partite dove si deve anche correre allora ragazzi ha un po' no l'anatomia della squadra perfetta quella che un giorno definì quasi progettata al computer il Bologna non torna sulla terra ma percorre e continua a percorrere la sua straordinaria strada che vuole portarla verso traguardi importanti che sono ovviamente le magiche notte europee l'anno prossimo può farlo quindi tifosi bolognesi complimenti tifosi interisti complimenti è difficile che in Italia si vedano partite che finiscono 1-0 e molto combattute che ti emozionano e questa sera è stato così se vi è piaciuto il contenuto ragazzi ovviamente lasciate un bel like iscrivetevi al canale attivate la campanina e condividete il video dal vostro Andrea un grandissimo abbraccio e ci vediamo ovviamente domani con tutto il resto della serie A un grande abbraccio ciao ragazzi grazie a tutti